Abruzzo, quinta regione in Italia per rischio contraffazione. La Confartigianato regionale rilancia l'allarme sul commercio abusivo e sui prodotti taroccati che minano la competizione sul mercato. I dati elaborati dal Centro Studi Nazionale della Confederazione Artigiana sono impressionanti, con un'impresa su 5 in Abruzzo esposta a rischio contraffazione. 1.439 imprese, pari al 19,7% del totale manifatturiero su 7.303 attività. I settori principalmente interessati sono l'abbigliamento, il tessile, la gioielleria e le calzature. A livello territoriale la maglia nera aspetta la provincia di Teramo, le imprese maggiormente esposte sono 700 e rappresentano il 33% del totale. Seguono il pescarese, la provincia di Chieti e l'Aquilano. A livello nazionale le imprese esposte alla contraffazione sono 63.025, pari al 19,8% del totale, un dato percentuale in linea con quello abruzzese. Vengono persi 9,9 miliardi di euro e 88.000 posti di lavoro. Davanti all'Abruzzo solo Toscana, Marche ed Umbria. Le situazioni migliori in Italia sono in Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia.